Pittarello Cazzo mi viaggia sempre a una velocità elevata Non è bello da vedere Scomposto però anche rispetto al buvo è una velocità superiore Marzio Ok adesso dovrebbe esserci ale chiuso E poi i grecchi No grecchi Rapido però nei cambi Comunque stacca sembra Si fa sempre in due tempi Lui secondo me perché è leggero così Fa più veloce Pittarello Marale Madonna Fa un'altra marcia Voglio vedere il tempo Secondo me è un'altra marcia E' un'altra marcia Chi è questo? E' un bocchio Buona vista Buona vicina Ma è Bortolotti no? Questa Non vedo un solco tra lui E' chiuso comunque Secondo me è passato più veloce Ma anche come velocità di ingresso Questo è il più veloce Questo forse Io questo finisce la curva sempre seduto Deve avere due gambe Mi sono piaciuti di più quelli prima Bortolotti e Ale Ale è il migliore Sono finiti? Eh direi di sì Direi che non è il primo